La coreografia, 6 e 15, l'interpretazione. L'Arna Kegutman. Triple roots, Euler, triplo Salkov. Triplo loop. Triplo flip. Triplo loop. Triplo axel, triplo tol. Triplo salvo, doppio 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 tol. Triplo tolup. Triplo tolup. Triplo tolup. Allora, a livello di components, anche io nel programma corto abbiamo visto la raffinatezza, la costruzione degli elementi. Lei non difficilmente la vedi semplicemente rincorrere per eseguire un salto. Il programma è sempre molto molto ricco di movimenti e secondo me ha un ottimo molleggio delle gambe.